milan triplo colpo per lo scudetto hanno messo leao solo perché è del milan clamorosa rivelazione sul futuro di un allenatore agghiaggiande e infine una super 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 fake news questo ed altro oggi tratteremo qui sul canale del marietto milanista iniziamo tribuno sonera tribù di gente vera buongiorno e buon 6 di dicembre a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista dunque oggi giornata di festa qui in spagna so che in italia potrebbe essere la festa di santagliusia di santa lucia e domani invece si lavora oggi si si blocca domani si lavora c'è chi ha fatto il ponte ponticello e poi l'otto l'immacolata che venerdì 9 10 altro piccolo ponte quindi vabbè oggi me lo godo anche perché adesso arriverà mamma e quindi devo andare a pigliare a mamma e la mamma la mamma la mamma me la tengo che guidar muy bien come si dice qui in spagna me la tengo che coccolare l'unica che mi è rimasta visto che ormai santo ciro ormai da più di un anno ci guarda dall'alto dei cieli i nonni ormai non ce n'ho più neanche nessuno meno male che almeno c'ho un figlio c'ho anche due sorelle con due nipoti perché altrimenti a livello familiare la mia famiglia siete voi come tribù rossonera e pochi altri amici veri che nel corso della mia storia della mia esistenza si sono avvicinati a me ma questo è già un altro discorso ringrazio subito per i like che avete messo le iscrizioni che avete fatto al canale grazie di cuore a tutti i nuovi le nuove così come grazie a tutti gli abbonati che ieri avete partecipato in questa bellissima live dove abbiamo affrontato tanti temi quindi come avete visto chi abbonato al canale a da 0 99 in poi la fortuna di poter dire la propria in maniera proprio familiare perché siete dei veri amanti della tribù rossonera poi io faccio anche delle chat dinamiche aperte a tutti anche chi non è abbonato però deve essere almeno iscritto al canale perché questo è il minimo no come se tu entri che ne so io in un in un partito o in una religione entri là dentro e poi vuoi andare lì a scompigliare le cose non ha senso se tu entri perché segui quel filone giusto è lo stesso di casino a tribù se a te non ti vanno bene i contenuti di questa tribù non sei d'accordo con la linea della della tribù rossonera ragazzi nel web è pieno di tantissimi altri youtuber giornalisti quindi nessuno ti obbliga a entrare qua dentro anche perché tanti poi scrivono dei commenti lunghissimi che dico perché me lo scrivi cioè mi vuoi cioè cosa mi vuoi comunicare con questo quindi vuol dire che ti piaccio perché se io entro da una parte non mi piace non sto neanche lì a perdere tempo a scrivere tre parole dammi tre parole sole cuore amore vabbè detto questo grazie a tutti a tutti così come ringrazio coloro che ieri mi hanno inviato un sacco di messaggi per l'altro mio canale delirium italicalcium pisciandosi dalle risate con i miei personaggi anche con l'addio o chissà arrivederci del pomata laziale ieri è stato proprio show l'avete visto la seconda parte quindi per chi ancora non l'avesse fatto iscrivetevi anche all'altro mio canale delirium italicalcium a parte l'altro ancora saggezza popolare per chi vuole aprire il cervelletto su detti e proverbi italiani ma allora iniziamo da questi giornalacci oggi ho dovuto fare questo video più tardi proprio perché stamattina sono stato preso con altre cose proprio in vista dell'arrivo di mia madre quindi però non ho voluto far mancare come sempre il mio appuntamento quotidiano tutto juve sport apre juve e come conte e qui adesso poi arriveremo a questa cosa qua intervista ad alessio vice tecnico del dei tre scudetti allora allora iniziamo proprio da questa notizia qua clamorosa rivelazione proprio sul futuro del agghiaggiande andonio gonde potrebbe accettare quella squadra e quale squadra dunque angelo alessio che tra l'altro per chi come me da piccolo l'ha visto anche vestire la maglia della juventus negli anni ottanta l'ex vice tra l'altro proprio di antonio conte rilascia questa intervista a tutto juve sport dicendo proprio sul futuro di conte quest'anno l'ha detto anche pubblicamente che rimarrà affermo in estate sicuramente in tanti lo cercheranno sia in italia che all'estero parliamo di un allenatore straordinario chi lo prende fa un affare e dunque esce fuori il nome del milan bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti obiettivi le proprietà straniere lui sicuramente un grandissimo professionista e l'ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante come andato all'inter potrebbe accettare il milan o andare altrove al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello ma è presto dunque questa dichiarazione ovviamente muoverà gli animi e fermenterà tante persone nel nel dire sì sì antonio conte è il giusto sergente che serve al milan è l'allenatore che serve al milan per bla 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 storia e io vi dico la mia per quanto mi riguarda voi sapete che io non sono un pioliano io sono sostenitore di pioli perché per tante tante ragioni che ho spiegato più volte è un allenatore che è arrivato in un momento di sconquasso totale nel milan che era proprio l'apice del baratro con giampaolo con questo decimo undicesimo posto da che l'ha preso pioli poi anche con l'arrivo di ibra il milan si è risollevato arrivando al sesto posto in quella stagione disastrosa e addirittura abbiamo poi rinunciato a un anno di europa league per questioni di fair play finanziario a differenza di altri che sono fallite squadre anche dalla i dirimpettai del naviglio falliti che però vanno avanti perché già sappiamo mano nella mano glavina glavina malotta malotta rocchi rocchi vabbè ci siamo capiti comunque il milan poi con lui subito dopo secondo anno pam secondo posto terzo anno pam scudetto quarto anno pam semifinale di champions league dopo 16 anni c'è stato sempre un step by step in crescita quest'anno c'è una rivoluzione sono arrivati più di dieci giocatori nuovi bisogna assembrarli abbiamo iniziato la stagione in maniera strepitosa contro ogni pronostico nelle prime otto partite sette vittorie l'unica sconfitta pesante è stata nel derby poi c'è stato questo mese di novembre duro difficile pieno di infortuni ma adesso cominceremo a vedere secondo me un altro scenario già il fatto di battere fiorentina e frosinone fare sei punti con una squadra disastrata che abbiamo proprio per quel discorso di infortuni senza un attacco le ultime giornate tra girù squalificato leao infortunato ocafor che stava fuori meno male che si è ripigliato perlomeno leao e pulisicli davanti perché altrimenti leao scusate jovic meno male si è ripreso lui perché sennò mannaggia la miseria lasciamo perdere dunque io sono un sostenitore di pioli per tutte queste ragioni poi che abbia fatto errori nessuno dice di no ma chi non fa errori ragazzi dai facciamo i bravi anche lo stesso in zaghello in zaghello in questi anni adesso perché ha trovato una quadra dopo tre anni ma anche lui ha fatto un botto di errori e anche quest'anno ne ha fatti nonostante passino in sordina ricordiamoci la settimana che perse 2 a 1 in casa l'inter col sassuolo e subito dopo 2 a 0 2 a 2 in casa col bologna è lì che tutti possono passare momenti così lo stesso stefano pioli il discorso di antonio conte è un discorso un po più complesso perché da un punto di vista di sergente di ferro innanzitutto gli devi dare uno stipendio di un certo livello secondo gli devi fare una squadra secondo come vuole lui quindi è capace che i giocatori che abbiamo adesso al milan deve rivoluzionare un'altra volta l'anno scorso ciò vuol dire un nuovo inizio e quindi un progetto che appena iniziato con questa nuova società che già salta in aria per ricominciare da zero un altro che vorrà dire altro tempo e voi che venite lì con i pioli out sta società bla 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 che tra l'altro adesso subito vi rivelerò una fake news figuriamoci avete pazienza ad aspettare poi altri due tre anni ancora per dai fate i seri fate i seri e comunque conte non ha mai vinto nulla in europa solo nei campionati dove lui allenato e con i giocatori che vuole lui e da qui arriviamo quindi su questa società tanto bistrattata è arrivata subito una smentita a una grande grossissima fake news voci cardinale invest corp prime prive di fondamento il punto questo lo sto riprendendo dalla redazione di milan news nelle scorse ore sono circolati diversi rumor su presunti avvenuti incontri tra esponenti del fondo redbird e rappresentanti di invest corp per immissioni di capital in redbird e nella c milan con il front man del fondo statunitense che sarebbe alla ricerca di nuovi investitori ma stando a quanto filtra da ambienti vicini al numero uno di redbird cardinale non ha mai incontrato nessuna persona riconducibile ad invest corp lo ripeto cardinale non ha mai incontrato nessuna persona riconducibile ad invest corp al momento non è in programma farlo e qualunque idea che preveda un'evoluzione in questa direzione è priva di fondamento complimenti a tutti coloro che per l'ennesima volta lanciano fake news nella rete nei giornalacci e tutto quanto perché vengono poi sempre puntualmente smentite bravi andate avanti così con le vostre cazzate e la gente che se le beve perché anche ieri poi arrivano in là ma cosa ne pensi del mondo pif puff puff e gli arabi ma cosa vuoi che ne pensi questa è una società che ha preso l'anno scorso la squadra l'obiettivo stadio ci vogliono almeno 3-4 anni perché sia pronto magari dopo può darsi una volta che lo stadio sia fatto una volta che siano ammortizzate le spese non escludo che da qui a 6-7 anni possano vendere ma nel calcio ragazzi si sa che funziona ormai in questo modo non esistono più le popè dei 30 anni di berlusconi o dei da laurentis da più di 20 anni nel napoli o il lotito cioè sono poche le realtà così lo vedete nel milan nell'inter nella roma ormai stanno cambiando le cose quindi per noi l'importante che il progetto che portino avanti soprattutto dello stadio si finalizzi e questo è importante avere un nostro stadio di proprietà poi la crescita del brand e tutto il resto serve per poi ovviamente far sì che entrino introiti importanti per poi fare ogni campagna acquisti di un livello più alto step by step quindi portare anche giocatori un certo livello al milan per crescere anche a livello competitivo nel non solo a livello economico di brand ma proprio poi nei fatti concreti nel campo ma tutto questo è una progettualità io vi ricordo berlusconi quando prese il milan ci vogliono almeno due anni prima di vedere il primo scudetto che sappiamo bene com'era andato contro quel napoli maradona che praticamente si era venduto lo scudetto quell'anno là dai parliamoci chiaro così come poi dopo due anni l'abbiamo perso per la questione della monetina delle mao cioè quegli anni sono successe cose strane però quel signor sacchi che aveva quel plotone d'esecuzione vinse uno scudetto in quattro anni pioli uno scudetto in quattro anni ma con dei ragazzini è un calcio totalmente diverso quindi per quello anche il perché la stima per stefano pioli e poi tra tutte queste cazzate memorabili che di fake news arriva la ciliagina sulla torta di chi di maurizio pistocchi maurizio pistocchi noto giornalista in italia tutto quanto ha parlato del gran gala del calcio che ha visto praticamente mignon come portiere premiato poi a parte teo hernandez in difesa c'era di lorenzo kim che era il difensore del napoli al bayern monaco l'interista bastoni a centrocampo nicolò barella cialanoglu insieme allo botca del napoli davanti varascei la usimen e leao e proprio sulleao che cosa ti dice sto fenomeno di maurizio pistocchi intervenuto a tv play dice nella top 11 hanno messo due sterni sinistri perché non potevano non premiare uno del milan hanno messo leao a destra anche se l'anno scorso non ha mai giocato in quella posizione secondo me doveva esserci berardi tutte queste cose politiche mi danno un po fastidio politiche politiche ma pistocchi ma tu davvero stai dicendo politiche per premiare un giocatore del milan guarda che poi non era uno perché c'era già me meg mignon e c'era già teo hernandez ma se tutti gli altri erano dell'inter o del napoli bastoni barella cialanoglu sono dell'inter giusto o mi sto sbagliando poi chi è che poi c'era di lorenzo kim lobotca osimen e kvara sheila 5 del napoli giustamente squadra che ha stravinto lo scudetto e tu mi dici dove mettere uno del milan pistocchi cosa ti ha dato fastidio che non ha messo nessun gobbo e chi gobbo mettavamo l'anno scorso ah vuoi mettere berardi perché berardi andrà la juve probabilmente a gennaio ma non ha senso quello che dici cioè tu puoi lasciare fuori dalla top 11 uno tra kvara sheila e leao puoi è normale che li metti comunque tutte e due non è che sei fissato sul fronte d'attacco alla sinistra perché leao ma stai scherzando ma sempre fango sul milan dovete buttare ma anche da queste minime cazzate cioè io ve lo dico a voi utenti anche cioè vi rendete conto che ogni volta bisogna trovare sempre il cazzo di perché pistocchi non ti fai la domanda o non lanci la domanda tu che parli di queste cose politiche dov'è zang dov'è zang falla sta cazzo di domanda vai in una conferenza stampa del signor simone inzaghi e molto educatamente dirgli una cosa così mi scusi simone al di là della tecnica della tattica quello che mi sarebbe piaciuto ascoltare da questi giornalisti farlocchi che tutti sono dei farlocchi la busta paga dal sistema perché se fossero persone libere gli farebbero una domanda tranquilla senza offesa mi scusi signor inzaghi signor simone inzaghi ma ha parlato col suo presidente è contento il suo presidente e parlo di zang è contento del inizio stagione tutto quando e ci può dire dove si trova in questo momento il signor zang perché è più di tre mesi che non lo vediamo non hai offeso nessuno e fatto una domanda lecita che si farebbe qualcuno di qualunque squadra io sono del milan tre mesi non vedo cardinali scusa ma dove cazzo è finito mio presidente giusto giusto questo vuol dire essere complottisti no questo vuol dire essere persone intelligenti e libere di testa non manipolate dal sistema che vi mette lì le fette di prosciutto ante agli occhi fate cadere sto velo fatelo cadere per favore e dunque juve sogno anche sa genduzzi prenota il derby in coppa italia ha vinto 1 a 0 la lazio contro il genoa vogliono stangarlo un povero murinio povero ma perché lo volete stangare ma cosa ha fatto di male questo povero uomo la gazzetta interista dello sport lautaro firma gol scudetto vlaovic chiesa e il vero toro carica carico carica cairo che zapata ora un grande finale di anno ovviamente il giornale la gazzetta di chi è di cairo davis a milano la candidatura sogno binaghi qui le finale del 20 25 sale con lui no io spero che sarà non ci sia più le auto torna di moda stupisce col gonnellino dai col gonnellino però raffa te lo potete evitare si prepara a rientrare forse già con l'atalanta non credo secondo me il milano otterrà per il newcastle in mezzo il milan si rifà in tre david rivul guida la rivoluzione per la rimonta e quindi quasi parla di milan triplo colpo per lo scudetto il milan vuole essere protagonista in questa stagione e da gennaio probabilmente potrebbe farlo anche perché visto che la difesa purtroppo mancano giocatori per i motivi che sappiamo dovrebbe diventare protagonista nel mercato di gennaio ovviamente il vuoto lasciato tanto da calulu che da ciao sono degli infortuni pesanti addirittura c'è l'idea di far tornare in anticipo come già detto in altre puntate matteo gabbia in prestito al villareal l'altro potrebbe essere chi vi or dall'arsenal ex spezia che piace tanto alla dirigenza rossonera bisogna vedere se poi i gunners siano aperti comunque al discorso di prestito con diritto di riscatto comunque è una formula che al momento non sembra convincere gli inglesi l'altro nome è quello che ormai si sta ventilando da tempo che juan miranda vorrebbe anticipare i tempi invece aspettare giugno prenderlo già gennaio mettendo sul piatto 3 4 milioni per diventare il vice teo hernandez e vediamo tutto dipende ovviamente dal betis per dare il via libera il gol davanti di jovic dell'ultima partita al frosinone sembra non bastare il milan vorrebbe mettere mani sul nuovo attaccante e nuovamente si fa il nome di chi di jonathan david sappiamo il suo prezzo oscilla intorno ai 40 milioni a un anno di scadenza potrebbe anche trattare il milan con una sorta di 20 milioni subito come cazzo ne so io cartellino e poi dopo gli altri 10 15 con obbligo di riscatto non so quale formula possono fare ma per prenderselo subito dal lilla che non sta vivendo un'annata particolarmente semplice quindi milan metterebbe le mani subito a gennaio con un rade crunic che potrebbe essere venduto poi bisogna vedere se è vero se mette sul piatto il fenerbahce 10 milioni li da 3 milioni e mezzo all'anno al bosniaco e i soldi di quella cessione verrebbero ovviamente reinvestiti nel mercato queste sono voci che arrivano oggi al 6 di dicembre io ovviamente come sempre ragazzi vi dico che qualunque informazione arrivi dal web cercate sempre di andare a cercare o dal web dai giornalaci dai youtubers o certi giornalisti allarmisti scandalosi in tante cose cercate sempre una controparte non andate così fissi cioè qualunque notizia che vi arrivi dal mainstream da giornali tv e compagnia bella cercate sempre di trovare una controparte perché neanch'io posso avere la verità assoluta io cerco nel limite del possibile di andare a vedere se queste notizie possono essere più o meno vere poi ripeto vi riporto le fonti proprio per questa ragione perché non me le invento io le cose io non è che c'ho lì la talpa come questi giornalacci lì pronto sì so tu sì no ho sentito quello che diceva furlani che diceva cardinale o dall'altra parte no no zang malotta malotta non ce le ho io queste informazioni quello che vi dice no io ho una voce ho sentito ma sentito cosa ma certe decisioni si prendono in sale chiuse ma ve le vengono dire a voi le strategie di mercato le strategie che ne so io di altri movimenti che devono fare a livello societario sono cose che se non fanno poi un comunicato ufficiale le società sono voci pigli la voce di qua pigli la voce di là quindi attenzione fate sempre molta attenzione a chi ascoltate e le decisioni che vengono date a buon intenditore poche parole grazie per il like grazie per l'iscrizione al canale grazie per gli abbonamenti da 099 veramente siete gentilissimi per poter sostenere il lavoro quotidiano della tribù rossonera che non è solo su questo canale come ben sapete ne ho altri due che delirium italicalcium il cabaret allo stato proprio follia totale delirio totale e poi invece l'altro saggezza popolare che serve invece per pensare meditare riflettere sulle questioni di ogni giorno che ci affliggono a tutti quanti e attraverso proprio dei detti e proverbi popolari che ben tutti conoscono ma che non tutti sanno a fondo il significato profondo che possono apportare proprio nella nostra vita quotidiana quindi grazie per seguirmi non so se oggi ci saranno altri contenuti a meno che succedano cose straordinarie non ci saranno live so che c'è il fratello ale che stasera farà una sorta di botta risposta domanda e risposta sull'urlo milanista io da parte mia questi giorni come vi ho detto anche con la presenza mia mamma non ci saranno delle live a meno che potrei farne una con chat aperta adesso vediamo se venerdì non lo so non lo so ma questi giorni è più no che sì non che sì il il 71 ivoriano è più no che sì ci siamo capiti ok le live la prossima live che farò sarà sicuramente lunedì per il processo di rosso nero e bass questi giorni ci saranno tutti i video live reaction post milan vediamo anche nei posti inter post napoli comunque tranquilli che sempre qui c'è materiale in tutto e per tutto così come gli altri miei due canali ok vi auguro un felice e sereno 6 di dicembre noi ci vediamo alla prossima un bacio alle amiche un forte abbraccio a tutti gli amici e sempre forza milan ovunque e comunque è un saluto anche agli haters i trolls e chi mi vuole male vi auguro il bene ciao